Il mando parla a qualsiasi democrazio, prepara tutto, ma allora bisogna portare bene perché hanno tutta la vita, tutta la loro vita. Allora io voglio utilizzare dei punti per i quali questo miglioramento deve essere utilizzato. E mi voleva quello che ha detto il consigliere Basso. Il consigliere Basso afferma che questo è il momento che è il FU e che non vogliamo fare l'attentazione. Il FU e che non lo dice, la traduzione è il FU e che non lo dice, se io voglio mettere i soldi dalla tua, no, è una rossa, va bene, allora, va bene, cosa succede? Allora, allora, questi soldi, allora, qui per la legna, anche questo non lo fa, si doviene 100.000 euro dalla proprietà del FU. Allora, se lo sia 10.000 euro dalla proprietà del FU, se ho parlato, che ho parlato, scusa, se ho parlato, le cose del medico tedesiano? Allora, questo problema è il motivo di un anno che ho conosciuto da più di un anno. Ho parlato con l'ortocazio e il piccolo datorevole. Volevano che il comunice decise 20.000 euro in più. Si prevedevano dei soldi dai cittadini della strada affinché in casa con la città centrale si aggiorasse sull'ortocazio. Quindi dimagavano i cittadini. E chiedevano i cittadini. Ma ci chiamano i cittadini della convenzione. E la convenzione ci ha detto che il nostro accidente comunico è obbligato a fornire il testato di un altro giusto. Questo è il suo senso. Scusate, noi dobbiamo mettere questi soldi per portare le persone delle cose. Le cose che è sempre una cosa. Le trate. Le cose che è sempre interessate basso in un progetto. Il famoso progetto delle opere nazionali e delle opere nazionali. Che sono naturali e non vincere le cose. Le cose che è un progetto delle opere nazionali. Quindi, se noi mettiamo via Natale e Stauro. Ma c'è chi viene Natale e Stauro? Via Altononte, via Altononte, via Altononte, via Altononte. E mettiamo le decifre che non sappiamo se sono adeguate a farle. Ecco, questo è un progetto che c'è un progetto che ci ha dato nel mio rapporto, E' un progetto che ci ha dato nel mio rapporto a me, che cosa fa? Quindi, a questo punto, i miei figli del tutto è meccionista. Tu lascio per fare, e mi hanno fatto un progetto. E' un progetto che gli altri, e' una persona che gli altri... ...se ci vuole di più, se ci vuole di più, però non c'è uno tetto, ma giusta il progetto. Come iniziamo così a fare due tecnici, fratello che ti macchia e per la tua madre, vedi a chi ti ha riuscito. Allora, quindi, portiamo qua, un piano, per tutta la città, dove è stato fatto a tempo un paio collettivo che avevamo, come dice, 150.000 euro di illuminazione pubblica, i quali noi siamo dissidenti per 150.000 euro che partavano o non partavano delle illuminazioni pubbliche, che sono stati un regamento di investimento e che ci vogliono altri soldi di illuminazione pubblica, dove c'è stato facile, perché, veramente, un amico, poi un amico, quindi, per noi, ci sediamo, e vediamo proprio, parlando, quali, parlando, le variazioni che potremmo trovare a portare a questo filante. Alcesto, crediamo, per la tecnologia di cruce.